Tre piazze protagoniste e una scia continua di eventi. Così si presenta Natale di Stelle, la rassegna degli appuntamenti delle festività a Cortona, che quest'anno aggiunge luci e riflessi. Le luci sono infatti quelle che daranno vita alle proiezioni sulle facciate dei palazzi di Piazza della Repubblica, i riflessi quelli della speciale isola che emergerà in Piazza Signorelli. La cata di Babbo Natale invece torna a Palazzo Ferretti. Si parla di 50 eventi e anche di frazioni, perché poi andremo a coprire anche quelli che sono gli eventi su Mercatale, Terontola, Camuscia con quattro giornate molto impegnative e intense, ma veramente di grande livello. Quindi un Natale che copra 360 gradi un po' tutto, molto impegnativo come organizzazione, ma tuttavia abbiamo davvero portato un programma molto operativo e molto valido. Sono due che appartengono alla stagione teatrale, che sono Callas, Callas, Callas. Ricordo che quest'anno si celebra il centenario della nascita della grandissima cantante, forse più grande di tutti i tempi, e poi anche il consueto concerto dell'Orchestra Regionale Toscana. Oltre ciò abbiamo il 7 dicembre la Tosca con la core orchestra di ritorno da questo tournée che ha portato grandissimi successi in Germania, e poi voglio ricordare la colazione al museo del 1 gennaio, il Capodanno, e nel pomeriggio al Teatro Signorelli sempre la core orchestra con il concerto consueto di Capodanno. Quest'anno torna il presepe vivente di Petraia il 25 e il 26 dicembre, l'1, il 6 e il 7 gennaio, con un'anteprima della rappresentazione della Natività in Piazza della Repubblica l'8 dicembre. Stiamo creando anche delle scenografie nuove, stiamo cercando di ricostruire in piccolo il tempio che era a Gerusalemme, all'ingresso della città ai tempi di Gesù, quindi è un lavoro che ogni anno creiamo scenografie nuove e percorsi nuovi. Spazio alla cultura poi al centro convegni Sant'Agostino. Sarà il centro di numerose mostre, quindi sia all'interno dell'auditorium che qui nel porticato, quindi è una cosa molto positiva perché questo chiaramente porterà gente e porterà gente anche per Cortò. L'inaugurazione sabato 2 dicembre alle 17 con l'accensione delle luminarie, delle proiezioni immersive e con gli spettacoli di apertura.